Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata della trasmissione 7 in punto. Oggi ci occupiamo di musica, di lirica in particolare in un anno come sappiamo difficile per tutti quelli che provano a fare spettacoli con regole che sono cambiate in continuazione ma con capabilità e molta determinazione il cartellone di Vicenza in lirica anticipato da un gala estivo sta per entrare nel vivo e nella fine settimana inizia al Teatro Olimpico di Vicenza. Questo festival che da qualche anno cresce sempre di più in prestigio anche per una combinazione di ingredienti che lo rendono molto interessante. Con me c'è Andrea Castello, direttore artistico del Festival Vicenza in lirica. Buongiorno. Grazie, benvenuto, bentornato. Grazie, grazie a te che da diversi anni ci segui con questa straordinaria emittente il nostro festival. Grazie, grazie a tutti voi che ci seguite da casa. È un piacere per noi anche perché appunto non è facile muoversi in questo ambito in questi anni, farlo con grande qualità e anche con un grande spirito di ricerca come è sempre stato un po' anche nelle corde di questo festival che ci porta giustamente. Abbiamo l'arena di Verona, abbiamo la Fenice di Venezia, abbiamo tanta musica in questa regione per fortuna e ci porta a scoprire delle cose che sono meno conosciute ma non per questo meno importanti nella storia della musica. Infatti quest'anno io sono particolarmente felice, lo sai come la penso sull'argomento, Vivaldi è uno dei protagonisti principali del festival e si inizia proprio la grandissima con questa pagina sacra di Vivaldi che forse non tutti conoscono anche se sta crescendo in notorietà. Sì, quest'anno inauguriamo sabato prossimo con la Judita Triunfans di Vivaldi, questo oratorio straordinario ma che vede in palcoscenico tra l'altro ritorna a Vicenza Indirica Sara Mingardo, poi avremo un grande debutto di Vivica Geno al Teatro Olimpico, Alessandra Vicentin che affiancano anche due giovani talentuose, straordinarie voci come Cecilia Gaetani e Caterina Meldolesi nel ruolo della protagonista insieme naturalmente alla scuola San Rocco di Vicenza e con la direzione, il nostro ensemble barocco del festival Vicenza Indirica con la direzione del maestro Francesco Erle. Quindi iniziamo con questa grande pagina, sarà veramente secondo me una serata molto emozionante. Una serata emozionante e un po' nel riassunto di questa serata c'è quello che è lo spirito di questo festival, un altro ingrediente che a me piace molto ma credo che sia apprezzato anche dal pubblico. Ci sono grandi nomi, grandi maestri della lirica che vengono a Vicenza a rendere omaggio alla stagione e appunto ma anche a questo teatro straordinario che è il Teatro Olimpico e che si prestano proprio a affiancare giovani artisti, a seguirli in palcoscenico e fuori dal palcoscenico con delle masterclass e dei momenti di incontro e di formazione e credo che da parte di una persona, di un privato insomma che si mette a fare tutte queste cose straordinarie per la musica sia una cosa eccezionale. Ma noi sai la nostra, sempre il nostro impegno verso i giovani artisti, questo è fondamentale ma l'impegno verso i giovani artisti è anche un impegno che deve essere affiancato da qualcuno che il teatro lo vive, l'ha vissuto, lo sta vivendo adesso, che possa dargli delle nozioni giuste e valide perché comunque il teatro è una forma complessa anche. E quindi questi grandi nomi, questi grandi artisti che hanno fiducia nel festival, che credono nel festival ma che credono anche in questi giovani artisti, perché quest'anno sarebbe stato facile chiudere per un anno particolare, per non usare altri temini. Anche perché i posti del Teatro Olimpico non sono tantissimi. Io ne userò 170 al posto di 4,70 perché io uso solo la gradinata distanziata naturalmente secondo tutti i regolamenti che ci sono adesso. Però è facile di parlare di giovani artisti, ma bisogna anche agire perché non possiamo, io quest'anno potevo giocarmi una carta molto facile, ho un buon rapporto con i grandi nomi della lirica, potevo chiamare solo ed esclusivamente loro per riempire, ma chi si ricorda dei giovani artisti che sono a casa? È un grosso problema. E allora abbiamo deciso, a parte il gala che saranno gli artisti, parte degli artisti che hanno partecipato a quelle dirette che per due mesi ogni giorno abbiamo fatto, abbiamo deciso sia con Iudita, cioè appunto con Iudita di affiancare grandi nomi a giovani artisti, di dare l'opera, l'olimpiade a dei giovani artisti, sono arrivati in... L'olimpiade è l'altra pagina di Vivaldi che c'è in cartellone. L'ho anticipata, ecco. Di dare spazio a questi giovani. Sì, come è sempre stato ogni anno, di cambiare anche naturalmente, perché anche qua potevo giocare una carta facile, aver chiamato magari i giovani artisti dell'anno scorso, ma giovani artisti vuol dire anche coloro che ci aiutano, che collaborano dietro alle quinte, perché anche dietro alle quinte c'è un grande lavoro, soprattutto dietro alle quinte, dalle prove che sono già iniziate, ma anche il trucco, il parrucco, i costumi, c'è un grande lavoro. Che cosa? Beh, dico forte perché veramente il lavoro che viene fatto, anche da questo punto di vista, di coinvolgimento, anche della città di Vicenza, no, quest'anno è tutto quanto un po' in versione ovviamente un po' più complicata, un po' più ridotta anche da questo punto di vista. L'anno scorso c'erano tutte le vetrine della città addobbate, ci sono state un sacco di persone, di artigiani, che si occupano di tanti settori nella città, parrucchieri, assarti, che sono diventati persone di teatro, che si sono avvicinate al palcoscenico, che hanno visto e hanno imparato a scoprire anche questo aspetto. Quindi è un festival che coinvolge l'intera città, l'anno scorso c'era rapporto con la fiera di Vicenza, la Vicenza Oro che era contemporanea, quest'anno è tutto più difficile, però lo spirito rimane, diciamo. Quest'anno è tutto più difficile... Anche di sponsor purtroppo sono meno, e quindi magari anche le masterclass dei ragazzi hanno bisogno di un sostegno, anche da parte dei privati, magari lanciamo un appello da queste sede. Quest'anno è un anno molto difficile, io credo che se superiamo quest'anno, veramente abbiamo avuto un grande insegnamento, e spero che maturi nel tempo. Noi abbiamo un grosso sostegno dal Comune di Vicenza, dall'assessorato alla cultura, sia dal sindaco Francesco Rucco, che anche dall'assessore Siotto. Poi abbiamo gli sponsor privati, e basta vedere, fare un piccolo paragone dall'anno scorso a quest'anno, basta andare sul nostro sito e vedere il cambiamento. Quindi ringrazio quelli che ci sono stati, le collaborazioni, eccetera. La fiera di Vicenza verrà subito dopo, in versione limitata, non so, non ho seguito lo svolgersi, però anche lì è un problema, perché anche loro hanno dei problemi. Le vetrine quest'anno non ho voluto mettere troppa carne al fuoco, io ho un buonissimo rapporto con la mia città, con i commercianti, saranno invitati al festival. Abbiamo lanciato noi queste vetrine vestano lirica, e quindi spero che il prossimo anno si possa ripristinare anche tutto questo. E poi le borse di studio, giustamente tu hai detto la sensibilità. Sì, abbiamo bisogno dei privati, abbiamo bisogno delle famiglie, abbiamo bisogno delle piccole aziende che diano questa borsa di studio, che concedono questa borsa di studio, che poi sono 400 euro, tra l'altro detraibili anche, ai giovani artisti, perché abbiamo bisogno, abbiamo perso degli sponsor. La cultura non può morire, perché se la cultura muore, se non investiamo nella cultura, muore anche la città, muore l'indotto turistico anche. Noi i gruppi da Svizzera, Austria, Germania, quest'anno ne abbiamo persi diversi, per ovvi motivi, però noi abbiamo bisogno della città, delle famiglie che ci possano aiutare con una borsa di studio, come fosse un figlio, un artista che sta studiando, ad un'opera studio, una masterclass di canto lirico con la signora Barbara Frittoli, tra l'altro un sold out anche lì, di partecipanti. I giovani artisti hanno bisogno degli sponsor, ma hanno bisogno anche delle piccole realtà che aiutino un festival, perché portare il turismo culturale in una città come Vicenza, in una città palladiana, è importantissimo. Ci parli anche della Giuditta Triunfans, che è l'altra opera importante che avete in cartellone? L'Olimpiade. Ah, l'Olimpiade. L'Olimpiade, sì. Sì, quest'anno i titoli li abbiamo lasciati così, eravamo tentati di cambiare, cioè di rifare un po' quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Un altro bellissimo titolo con sette protagonisti, sette giovani artisti, scelti con apposite audizioni a luglio. e loro cosa fanno? Stanno già preparando, stanno già provando all'hotel che appunto ci ospita per poi sposarci al Teatro Olimpico e hanno lavorato già tre giorni recitativi, in Vivaldi il recitativo è molto importante, con Sara Mingardo. Quindi abbiamo già fatto tre giorni di opera studio con Sara Mingardo, che adesso ritornerà. Adesso stanno lavorando con il maestro Erle, poi con un regista di fama internazionale, Beppi Morassi, con i costumi tra l'altro di Carlo Stieppo, direttore dell'atelier della Fenice, del Teatro La Fenice di Venezia, che ci ha concesso anche quest'anno il patrocinio. E ringraziamo, perché questa è sinergia, è collaborazione tra due realtà. Un festival nato otto anni fa e un'istituzione come il Teatro La Fenice, che ringrazio. Ci sarà uno scambio, magari di, adesso vediamo, anche di fare delle agevolazioni, anche per i loro abbonati, anche perché non dobbiamo nascondere, non dobbiamo dimenticarci che i teatri in questo momento sono in forte crisi, perché abbiamo un pubblico limitato, un movimento, un ricostruire il teatro, pur di fare un po' di musica, insomma. Non facile, non facile, è bello anche questo retroscena di cui hai raccontato, appunto le audizioni, che hanno visto però una grande partecipazione, una grande vivacità di giovani che vogliono portare il testimone della lirica. Chi sono? Chi avete scelto? Quali avete scelto? Da dove vengono? Allora, innanzitutto devo dirti che l'entusiasmo e l'emozione che si sta respirando, già il giorno delle audizioni, i due giorni, perché erano 97 i partecipanti, poi se ne sono presentati 80 perché quelli magari dagli USA o magari da Israele, eccetera, non sono arrivati. L'emozione che avevano, che si mettevano a piangere e ci ringraziavano. E quello che stiamo vivendo in queste giornate di prove con questi giovani artisti... Ti ripaga. No, mi ripaga tantissimo. Ripaga Mary, paga il maestro, i miei collaboratori, perché sono emozionati. Mi dicono, ogni sera ci ripaga, ma grazie, ma grazie, ma grazie. Ma è normale per noi. Però è vero che di solito le occasioni mancano per questi ragazzi, perché i grandi palcoscenici, i grandi teatri cercano ovviamente i grandi nomi e manca quello che nella storia diventa proprio l'esordio di queste giovani voci, delle voci nuove. E questo, diciamo, è un aspetto che mi piace molto del vostro paese. E questo è rimasto intatto. Tra l'altro anche noi, anche quest'anno, riproponiamo il workshop con Confartigianato, Imprese a Vicenza, Artigiani all'Opera. Però abbiamo deciso di non estenderlo a nuovi artigiani, ma di far collaborare magari qualcuno dell'anno scorso. Quelli dell'anno scorso, l'anno scorso ad esempio, abbiamo fatto collaborare dietro le quinte quelli che avevano partecipato al workshop l'anno prima, nel 2018. Quest'anno, perché dobbiamo stare molto anche attenti con le presenze dietro le quinte, quindi però anche con Confartigianato, Imprese, che è una nostra istituzione che collabora, anche loro hanno rinnovato l'impegno e cerchiamo di portare avanti e il prossimo anno si possa fare ancora il vero e proprio workshop. I giovani, Patrizio Laplacca, Daniela Salvo, Francesca Lione, Sandro Rossi, Maddalena De Biasi, Elcin Uzeinov e Emma Aressi Innocenti. Naturalmente l'ensemble barocco del Festival Vicenza Indirica. Ma come sono? Chi sono? Che voci sono? Ci sono dei talenti? Abbiamo bassi, tenori, abbiamo un sopranista, sono dei talenti. Forse è un po' così, appunto che lo dica io, sembra invece lo dico con grande orgoglio. Sono dei talenti, sono bravi, sono veramente bravi, sono preparati, hanno una cultura, sanno come si canta Vivaldi, sanno chi è Vivaldi, sanno cos'è recitativo, sanno l'opera e vivono il momento in maniera diversa perché stiamo facendo le prove naturalmente distanziati. Purtroppo hanno l'obbligo da parte mia di stare in hotel. Fanno una vita monacale, diciamo così. Ci spostiamo in blocco, gli stessi ci spostiamo in blocco, anche per non rinchiudere, perché hanno bisogno di respirare anche. Però sono persone straordinarie, poi hanno questo lavorare con Francesco L., con Beppi Morassi, con Sara Mingardo, adesso arriverà in città Barbara Frittoli. Torna quindi Barbara Frittoli, non vi lascia. Ormai è diventata la madrina di questo festival. Sì, lei ci tiene molto, ma tornano anche grandi altri artisti il 6 settembre. Forse ti ho già rubato la prossima domanda, ma l'entusiasmo che tu mi trasmetti è talmente tanto il 6 settembre. L'abbiamo anticipato un po' prima che ci sarà un gala, tutto dedicato ai grandi della lirica e anche con un altro ingrediente che di questi tempi non era scontato, il ricavato andrà tutto in beneficenza. Sì, perché stiamo vivendo un momento molto difficile a causa di questo coronavirus, ma dobbiamo ricordarci che ci sono altre situazioni di disagio, altre anche malattie, altre preoccupazioni. Noi a gennaio, a dicembre avevamo dato la nostra parola all'associazione Assi Gulliver, l'associazione sindrome di Sotos Italia, è una malattia appunto genetica rara che colpisce un bambino su 14.000. Avevamo dato la nostra parola di sostenerli con tutto il festival e in più un gala. Il gala l'abbiamo mantenuto, queste grandi voci, posso citarle. Assolutamente. Barbara Frittoli e Caterina Gubanova, Monica Bacelli, Diletta Scandiuzzi, Natale De Carolis, Alberto Mastromarino, Lucio Gallo, Ambrogio Maestri, Fabio Armiliato, Bruno De Simone, accompagnati al pianoforte da Mzia Bacturise, una delle più grandi pianiste della scala. E' tutto ricavato della serata, tutto, tutto, perché ringrazio lo sponsor che non vuole comparire, ma ci ha fatto sì di sostenere tutto, dietro le quinte, tutti i servizi, i costi dello spettacolo, tutto ricavato e lo diamo a favore di questa associazione. Non bisogna dimenticarci che abbiamo altre situazioni gravi da sostenere, non solo io, ma anche le altre associazioni. Quindi, pensate, abbiamo i giovani artisti della Masterclass che sono in città, abbiamo i giovani artisti che stanno debuttando l'opera, vedono questi grandi nomi, farò in modo che possano incontrare questi grandi nomi e questa è tutta un'energia che si protae avanti per il prossimo anno e poi avremo anche in città, quel giorno lì sarà molto vasto, perché qui non c'è scritto sul programma, ma iniziamo alla mattina alle 10 con la messa dell'artista a San Rocco, una messa dedicata agli artisti nella chiesa di San Rocco dove faremo la Masterclass proprio per gli spazi molto grandi, così possiamo essere in sicurezza. Alle 11 al termine della messa ci sarà subito il concerto degli allievi della Masterclass, ma alle 10 canterà un coro di bambine, le voci palladiane. Perché questo? Perché la lirica, la musica nasce dai bambini, ok? Dopo faremo il concerto della Masterclass, quindi coloro che si stanno perfezionando in vista del palcoscenico, alla sera abbiamo i grandi nomi, un po' il ciclo che dovrebbe fare questo lavoro di un artista. Che poi è una cosa che si innesta benissimo in una stagione dedicata a Vivaldi, lui che era maestro in un orfanotrofio di bambine, diciamo che... C'è tutto un senso logico, ma anche il pomeriggio abbiamo la presentazione del terzo libro, perché i primi due saranno uno il 3 di settembre, Parole e musica di Fabio Larovere, poi avremo il 4 di settembre Parole e musica, la parola alla musica di Fabio Larovere. Il 4 settembre presenteremo un CD, dopo ne parlo un attimo, il 5 settembre storia dell'opera lirica di Roberta Pedrotti, il 6 settembre avremo ospite lì a Piano, figlia del noto architetto e senatore a vita Renzo Piano, che presenterà il suo romanzo, divertente sì, ma con una morale, con un... bisogna leggerlo, bisogna leggerlo, io l'ho letto e mi sono emozionato, quindi avremo anche lì a Piano, che sarà madrina poi anche della serata alla sera. In più presenteremo, ho detto, questo CD, è uno spettacolo, è un CD di musica contemporanea, ce l'avevamo in programma quest'anno, lo porteremo a Vicenza il prossimo anno, di Gloria Bruni, composto da Gloria Bruni, il Ring Parabelle, ossia la parabola degli anelli, il dialogo interreligioso, queste tre grandi religioni, ok, tra l'altro ispirato al Boccaccio, al Decameron, e presenteremo il CD, dovevamo fare anche lo spettacolo, il concerto, ma sarà posticipato il prossimo anno, perché comunque dobbiamo avere un'orchestra di 45 elementi e un coro di 40 elementi, più solisti e sicuramente non potevamo al Teatro Olimpico mantenere il metro di distanza o il metro e mezzo o i due metri per i cantanti. Allora, si inizia sabato, quali sono le regole per chi viene a teatro? Tanto diamo anche qualche indicazione pratica, perché è importante anche quello. Naturalmente è già aperta la biglietteria, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 17 la biglietteria del Teatro Olimpico. Potete acquistare il biglietto che poi esibirete all'ingresso, oppure potete farlo attraverso il canale Viva Ticket, oppure scrivendoci un'e-mail e prenotando il biglietto via e-mail a info-concetto-armonico.it. Le regole, le regole sono regole di responsabilità naturalmente, perché io credo che la regola fondamentale in tutto questo, abbiamo visto anche questi assemblamenti ultimi, la regola fondamentale è la responsabilità, perché io dico sempre che il virus non è andato in ferie, non ha voluto andare in ferie, come molti di noi. Quindi la responsabilità, allora la fila, naturalmente ordinata, con la distanza di un metro, la mascherina in teatro, abbiamo visto che è obbligatoria, comunque dalle 18 alle 6 di mattina, quindi la mascherina, sarete distanziati tutti, anche i congiunti avranno il loro distanziamento, secondo le norme appunto di genti in questo momento, quindi la mascherina, lavarsi le mani, lo sappiamo, la sappiamo, ecco. Quindi non è particolarmente difficile andare a teatro. No, basta avere la responsabilità. Basta avere un po' di responsabilità e tutto funziona. Noi anche per gli udita saremo in palco, distanziati, abbiamo fatto delle piantine mandate a chi di dovere con un architetto. Quindi più di così. La regia dell'Olimpiade si adatterà alle disposizioni, al distanziamento, alla sicurezza degli artisti e anche del pubblico. Naturalmente è anche un ringraziamento, devo farlo sia ai miei collaboratori, a Guido Fagion, posso dirlo, non l'ho mai citato, che fa questo straordinario impianto grafico e tutto quello che è la grafica del sito. Ma quest'anno non l'abbiamo vista le locandine, però insomma c'è il sito che è vicenzainlirica.it. Le tre illustrazioni di Giuditta Triunfans, del Gala e appunto dell'Olimpiade, che sono state disegnate da un giovane architetto, ma già in carriera da appunto Matteo Bianchi. Quindi giovani anche nella costruzione dell'impianto delle nostre illustrazioni. Naturalmente ringrazio anche Paolo e ringrazio tutti coloro che collaborano con Vicenza Indirica, il Comune, gli sponsor e la Giuditta Triunfans tra l'altro ha ricevuto il patrocinio del Parlamento Europeo quest'anno, oltre del patrocinio del MIBAC, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Teatro La Fenice. Però è un altro questo... Tutte cose belle e prestigiose, speriamo che di anno in anno cresca. Dobbiamo crescere. Esatto, magari con qualche preoccupazione in meno collegata sia all'aspetto diciamo così di organizzazione e soprattutto di questo problema sanitario. Speriamo che prima o poi ci lasci operare tranquillamente anche in questo settore. Volevo tornare ai ragazzi che quest'estate hanno fatto le dimore in lirica e volevo che ci raccontassi qualcosa di questa esperienza. Abbiamo iniziato con la festa della musica il 21 giugno con uno Stabat Mater di Scarlatti che avevamo in programma per Pasqua e non l'abbiamo fatto, ma non abbiamo messo comunicati, fatto, abbiamo sospeso. Abbiamo iniziato il 21 giugno in maniera simbolica con questo Stabat e poi a luglio abbiamo fatto dimore in lirica sugli androni di luoghi significativi, di palazzi significativi delle città e quindi abbiamo chiamato una parte, perché erano quattro le date, una parte dei protagonisti delle scorse, delle passate edizioni a cantare. Perché questo? Eravamo un pubblico di 25 persone per concedere loro una borsa di studio. Cioè questi giovani artisti, prima lo stavo dicendo, sono la maggior parte, quasi tutti, sono a casa. Io faccio un appello anche alle istituzioni, agli altri teatri e i festival. Chiamate sì, chiamiamo sì i grandi nomi della lirica, ma abbiniamo, non so, cinque grandi nomi e tre giovani, tre grandi nomi e due giovani. Abbiniamo i grandi nomi che servono, perché abbiamo sempre qualcosa da imparare e da ascoltare, ai giovani artisti, perché i giovani sono a casa, hanno ricevuto la maggior parte il bonus, ma sono a casa, magari hanno un affitto da pagare, lo strumento. Non si vive di bonus. Non si vive di bonus. Si vive di lavoro e di soddisfazione. Io ringrazio anche il Mibact che mi ha sostenuto con il festival. Sono persone che hanno studiato moltissimo e continuano a studiare. Quindi dimori in lirica era un modo per dare la borsa di studio a qualcuno l'anno scorso. Cerchiamo, adesso speriamo che il festival, grazie a voi, grazie al pubblico, possa andare bene e elargire altre borse di studio per gli altri giovani artisti del festival degli anni passati. Allora, qualcosa anche sulle regie. Abbiamo detto che ci sono degli adattamenti in scena per consentire la sicurezza, ma anche il festival ci ha abituato a delle regie un po' inconsuete, un po' innovative. Qualche anticipazione? Io so un po' la regia è sempre in evoluzione. Quest'anno vedremo degli ospiti particolari con l'Olimpiade di Vivaldi. Vedremo degli ospiti particolari interpretati dai personaggi dell'Olimpiade, interpretati dai giovani. Vedremo una regia che ci fa apprezzare ancora di più il teatro olimpico e conoscere ancora più da vicino il teatro olimpico. Naturalmente è una regia studiata, non posso dire di più perché non spetta a me, ma studiata secondo anche le disposizioni, ma proprio per far vedere questa magnificenza che si chiama teatro olimpico di Vicenza. Sulla parte musicale sappiamo che il maestro Erle con la sua ensemble è assolutamente collegato alle partiture originali, agli strumenti originali. Una lettura filologica, come direbbe un bravo commentatore. Naturalmente quest'anno abbiamo deciso dei tagli, sia per l'aiudita sia per l'Olimpiade, in modo da non fare l'intervallo, ma rimarremo intorno alle due ore, due ore e un quarto. L'anno scorso ci siamo spinti fino alle tre ore. Quindi quest'anno ci saranno stati dei tagli, naturalmente scelti con le opportune misure tra maestro, direttore, e tra regista, strumenti antichi, grandi professionisti in orchestra. Avremo veramente di grandi, grandi professionisti nei due ensemble, sia per quello della iudita triunfas che dell'Olimpiade. Veramente sentiremo un suono di alto livello. Non spetta a me a dirlo. Ho finito il tempo, possiamo solo salutarci, un in bocca al lupo per l'inizio del festival, sabato 29, appunto con la giudita triunfas di Vivaldi, in bocca al lupo a Vicenza e Lirica. Grazie a voi per essere stati con noi questa mattina. Buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti.